Il secondo segnale, quello valido, con Gregory RL e Maragia in linea. Gregory fa accenno di voler correre davanti, ha sbagliato intanto Oceano del Rio. Per linee esterne Pink Floyd, Hans, Gregory che si distende l'errore di Pink Floyd. Dopo 200 metri in 16 e mezzo, Maragia in seconda posizione, precede non solo Barra, poi Pietrasanta e Oceimeri. Hanno recuperato i penalizzati Lucarina e Pablito BF, la squalifica per Pink Floyd, Hans. 33 ai primi 400 metri, tira e rimi in barca Gregory RL, ne approfitta per venire in avanti Lucarina. La quale stana Pietrasanta che prende la via del largo dopo 600 metri, Maragia con un dentro e fuori, controlla la situazione e non si lascia coprire. 49 e mezzo e 600 tattici di Gregory RL, 16 e 3 la frazione. Gregory al comando, Maragia controlla Pietrasanta, poi non solo Barra, largo Lucarina, 3 in diagonale dopo mezzo miglio in poco meno di 1,5. Gregory, Maragia, non solo Barra in corda, Pietrasanta a centro pista, Lucarina in seconda pariglia, quando si va dopo mille metri, completati dalla coppia di testa in 1,19 e mezzo, 14,6 di paletto. I cavalli affrontano la penultima curva, non ci sono venazioni sostanziali con Gregory RL e Saldo Battistrada. Maragia in pressing al suo fianco, non solo Barra senza spazio, coperto anche da Pietrasanta, 16 il paletto per iniziare il chilometro conclusivo. Per ultimo rettilineo con la mossa in terza ruota di Lucarina che anticipa Pablito BF dal fondo del gruppo, ma il ritmo tende ad aumentare sotto il pressing di Maragia. Non solo Barra prova a liberarsi, Gregory RL cerca la difesa, Maragia però insiste, non solo Barra che lo insegue. Pietrasanta che va in crisi quando i cavalli imboccano la corva finale, 13,4 di là, 2,4 abbondante il miglio. Maragia che sfonda, non solo lo insegue, poi ok Medi che si affaccia su Gregory RL quando i cavalli completano la piegata finale. Maragia che richiesta braccia e frusta, è inseguito da non solo Barra, accento alla conclusione, Maragia di dentro, non solo Barra a largo, arriva non solo, Maragia si dipende, non solo che ci riprova, non solo attacca, Maragia è di dentro ancora in vantaggio. sul palo e due, perfettamente apparigliati con Maragia che sbaglia probabilmente dopo il palo. E al terzo posto termina Ok Meri, 2,32 sul mio cronometro, 27,8, gli ultimi quattro dopo una frazione in 13,4. Una chiusa devastante per entrambi, Maragia di dentro, non solo Barra a largo, foto strettissima per la vittoria. sul palo e due sono perfettamente apparigliati. Al terzo posto Ok Meri, di dentro Maragia con Vincenzo Luongo a largo, non solo Barra, con Giuseppe Caramia in una delle foto più strette.